L'Ave Maria cantata per diffondere speranza contro il virus. L'interpretazione, a cura del Mers Ensemble Trio, intende rendere omaggio ai medici, alla polizia e al Papa, che secondo il gruppo sono stati tutti fondamentali nel combattere la pandemia, offrendo assistenza sanitaria, multe e preghiere. Abbiamo ideato un video che servisse da testimonianza attraverso musica e immagini di questo brutto periodo che ci siamo appena lasciati alle spalle. E ovviamente, come ben noto, non potevamo fare concerti, non potevamo operare in live e quindi abbiamo deciso di creare un video, un elaborato a distanza, unendo la nostra musica alle immagini simbolo del periodo dell'emergenza e della lotta al coronavirus. Infatti, sulle note della Maria di Gounod abbiamo selezionato tutte le foto tratte dal web, una lunga raccolta dove si possono vedere i medici impegnati nell'emergenza, il personale sanitario, ma anche polizia, carabinieri, le forze dell'ordine e il ruolo che la Chiesa ha avuto nel gestire la situazione e nell'impegnare le sue forze nella lotta a questo virus. In tempi di Covid il video è stato realizzato dai tre a chilometri di distanza, dalla Marsica a Francavilla al mare, per poi essere diffuso su internet. Credo che sia un terreno per sperimentare l'arte in una maniera alternativa che di sicuro non può essere sostituita alla potenza espressiva del live.